Non so neanche come si possa fare una cosa del genere, però mettiamo un punto di domanda perché, non lo so, spero servisse a qualcuno in quel momento, non lo so. Dispositivo temporaneamente non disponibile causa furto. Questa è la scritta apparsa al posto del defibrillatore posizionato in questo punto dell'area estera, luogo di svago e relax per i trevigiani, all'altezza del viale 4 novembre. Il salvavita a disposizione di pedoni e ciclisti non è stato più trovato nella cassetta che lo conteneva, provocando lo sdegno del direttore generale dell'ULS2, Francesco Benazzi. Ricordo queste persone che, prima di tutto, essendo lungo l'area estera, serve, serve veramente perché ci sono persone che passeggiano, anziani che passeggiano, persone anziane che vanno in bicicletta, giovani che corrono e quindi donne che corrono. Quindi, voglio dire, è importante che ci sia perché è una salvaguardia, è un modo come un altro per aiutare chi magari è in un momento di difficoltà legato a un blocco del sistema elettrico del cuore e quindi è fondamentale ci sia. E dopo diciamo che è uno sgarbo anche nei confronti di chi ha donato questo, lo ha donato per uno scopo importante, come dicevamo prima. E quindi questo non va assolutamente bene. Quindi io credo che chi lo ha preso dovrebbe riportarlo. Sconosciute le ragioni che hanno portato a questo atto vandalico, che indigna e preoccupa gli abitudinari del posto. Questi gesti sono antivandalismi che ci sono ovunque e bisogna presidiare il territorio, anche questo va presidiato. Non ci sono parole per descrivere, anche perché è qualcosa di pubblico che dovrebbe rimanere a disposizione di tutti.